Da Radio Speranza, la radio della diocesi Pescara Penne, 87,6 MHz, un caro saluto da Licio Di Biase. Oggi per la nostra rubrica Libri e dintordi con la regia di Davide e De Amici si incontriamo Antonio Di Gregorio. Un caro saluto a Antonio Di Gregorio. Un caro saluto a tutti. Che insieme ad Alessio Meuti è autore del libro di cui parleremo oggi, Avviatori Abruzzesi e Molisani della Prima Guerra Mondiale. Un argomento sui generi. Ma prima, Antonio, parliamo di te. Per affrontare un argomento di questo genere, parliamo degli avviatori, c'è anche la ricerca storica della Prima Guerra Mondiale, significa che tu hai avuto un'esperienza nell'aeronautica. Certo. Sì, questo libro nasce da due esperienze, più che esperienze, da due desideri. Il primo che ho soddisfatto fin da giovane era quello di andare in aeronautica. Quindi ho trascorso gran parte della mia vita, anzi, tutta la mia vita lavorativa in aeronautica. Dico gran parte perché è stata divisa in due parti. La prima in aeronautica militare e poi nell'avviazione civile. E la seconda, quando sono andato in pensione, ho potuto dedicarmi un po' di più. Era quella che mi sembia piaciuta, dello studio della storia. E l'ho messa anche un po' a frutto, avendo qualche tempo a disposizione in più, dedicandomi a qualche libro, chiaramente sull'argomento aeronautico, che è quello che conosco meglio. Quindi hai avuto esperienza del traffico aereo e di assistenza di volo. Sì, esatto. In aeronautica io sono stato addetto al controllo del traffico aereo e all'assistenza a volo in generale. Cioè, adesso in due parole, per capirci che l'assistenza a volo significa separare gli aerei nelle loro rotte, appunto, di spostamento tra una città e l'altra, assisterli meteorologicamente o in tutto quello per cui hanno bisogno. perché chiaramente è un discorso difficile da fare adesso, ma gli aerei non è che volano, per la grazia di Dio, sperando che non si prendano, ma c'è tutta un'organizzazione a terra. A un certo punto della carriera, come dicevo, sono passato all'aviazione civile perché in Italia è stato istituito il servizio di controllo del traffico aereo civile, ma ha attinto a man basa nell'aeronautica militare, quindi ho continuato questo lavoro anche da civile, ho avuto anche l'esperienza di fare un po' di anni di insegnamento alla scuola di controllo del traffico aereo di Forlì, quella civile, dopodiché ho finito la mia carriera a Pescara. Perfetto, e poi ti sei dedicato alla ricerca storica, infatti questa non è la tua prima pubblicazione, anche se qui questo libro è pubblicato e scritto insieme ad Alessio Meuti. Sì, esatto, questa è un'esperienza fatta insieme ad Alessio Meuti. Però? Io avevo scritto prima un libro sempre per una questione di interesse sulla vita di D'Annunzio, vivendo a Pescara e delle sue attività, in particolar modo mi avevo dedicato nel libro alla figura di D'Annunzio e degli uomini che lo avevano seguito nel volo su Vienna, perché di D'Annunzio si sapeva molto, si sa molto, se ne parla sempre molto, si parla molto poco di quelli che l'avevano seguito. Sono andato a fare un po' di ricerca su questi avviatori, che è stato molto intrigante e interessante, perché si sono scoperte anche cose che... questo succede sempre quando si fa un libro, penso, almeno con la mia esperienza. Soprattutto di carattere storico, che incontri, novità. Di scoprire cose che non conoscevi nemmeno, esatto. Parli anche di Alessio Meuti. Sì, Alessio Meuti è un caro amico, un collega, è stato anche lui in aeronautica militare, ora è in pensione, e vive a Verona, ha delle origini abruzzesi, tra l'altro, questo per inciso. e ci conosciamo da un po' di tempo, soprattutto quando io ho scritto il libro su D'Annunzio, di cui parlavo prima, è stato molto importante il suo aiuto dal punto di vista iconografico, di notizie, perché lui gestisce adesso in pensione un sito, è presidente di un'associazione aeronautica culturale di Verona, e gestisce un sito molto bello, molto importante, sugli aviatori veronesi soprattutto, che hanno prodotto un sito all'Ate, intitolato Il Fronte del Cielo, che riguarda tutta la Prima Guerra Mondiale, che è veramente un monumento da genere presente per tutti quelli che studiano, che sono interessati, sono studiosi della Prima Guerra Mondiale, quindi è un personaggio molto, molto addentro in queste materie. Bene, nel volume, oltre alle fotografie, che è frutto anche qui della ricerca, ci sono delle straordinarie immagini del maestro Mimmo Sarchiapolo, che grande Mimmo, che arricchisce sempre i nostri lavori. Allora, adesso veniamo a questo libro, come nasce il desiderio di pubblicare, di fare questa ricerca innanzitutto, e poi di pubblicare il libro? Confesso che la proposta è venuta proprio da Alessio Meuti, dal collega di cui parlavamo prima, perché stava facendo delle ricerche e lui è molto capillare, addirittura aveva un desiderio quasi di poter trattare tutti i piloti della Prima Guerra Mondiale, ha incominciato a farlo regionalmente, forse non so se per la questione di una sua provenienza abruzzese, o perché in maniera alfabetica è partito da là, aveva cominciato proprio con gli abruzzesi, e mi ha detto, ma perché non facciamo una pubblicazione su gli abruzzesi? E mi è sembrato molto subito interessante da seguire la cosa. Eravamo alla fine del 18, quindi eravamo nell'ultimo dei quattro anni di celebrazioni per la guerra del centenario del 15-18, non avremmo fatto in tempo a farla in quell'anno, ma non importava, solo che poi tra capo e collo ci è capitata la pandemia, quindi eravamo partiti, ci siamo dovuti fermare, e alla fine abbiamo pensato che però era l'ideale quando siamo potuti ripartire e pubblicarlo nel 2023, come è stato possibile, che era l'anno della rievocazione del centenario dell'aeronautica militare, che era stata fondata nel 1923, quindi sempre con la collaborazione di Meuti abbiamo fatto delle ricerche, è stato un lavoro interessante e anche un po' faticoso qualche volta, perché cento anni sono pochi, ma qualche volta cancellano anche molto le tracce. Bene, l'introduzione di Marco Patricieli, storico, studioso di storia contemporanea, e che quindi ha introdotto questo lavoro, dove chiaramente c'è l'entrata in guerra. E allora, parliamone un attimino di questa... Sì, l'Abruzzo, come tutte le altre regioni d'Italia, fu coinvolto subito dal 24 maggio fatidico dello scoppio della guerra, con tutti i suoi figli e tutti i suoi reclutati. Noi nel libro abbiamo anche inserito che la regione stava facendo passi da gigante per quello che era l'evoluzione, lo sviluppo economico. La ferrovia aveva portato grandi impulso nelle attività commerciali, turistiche, eccetera. Però la ferrovia a un certo punto diventa una tradotta militare, perché praticamente si è fermato tutto con la guerra. E quindi in questo contesto per noi l'argomento cardire è stata l'aviazione. Era una novità. E allora parliamo noi della Prima Guerra Mondiale. Ma a Pescara, prima del volo della Prima Guerra Mondiale, abbiamo avuto qualche... Ecco, Pescara, io infatti, prima parlando che ho accettato questa proposta del mio collega, era anche legata al fatto che Pescara aveva molto da dire, l'Abruzzo e quindi Pescara, molto da dire sulla questione dell'aviazione. Perché già nel 1910 era stata fatta una manifestazione aerea a livello non mondiale, per carità, ma almeno nazionale, europeo. Potremmo dire mondiale, visto che a quell'epoca gli americani erano molto distanti dall'economia che era tutta accendrata in Europa. Però fu una cosa importantissima per una cittadina che all'epoca non era neanche una città, erano due paesi, Pescara e Castellammare separati, ma soprattutto Pescara, che si stava un po' sviluppando, cercando di trovare la sua dimensione, era riuscita a far fare questa manifestazione aerea, sicuramente con lo zambino di D'Annunzio alle spalle di D'Amico, D'Amico che era l'organizzatore della manifestazione, che ebbe un riscontro enorme dei giornalisti, non si sa se esagerarono, parlarono di centomila persone. Sì, dal 31 luglio al 7 agosto del 1910 all'aerodromo della Pineta, a fianco all'Aurum. Perfetto, assolutamente lì. E quindi fu una prima esperienza. Una prima esperienza. Poi certamente anche D'Annunzio continuava con le sue opere, conosciuto in tutta Europa, parlava della guerra di Libia, esaltava, oltre, è internetista come sappiamo come era lui, ma esaltava la presenza degli aeroplani italiani, con la bandiera italiana, la prima aviazione al mondo, anzi non era l'aviazione ancora, prima forza armata al mondo, l'esercito e la marina che avevano portato l'utilizzo dell'aeromobile nel campo militare. Perfetto. Il terzo capitolo mi ha colpito. Il volo, la guerra. Ci siamo. E le donne? Ecco, le donne... Parliamo di più di un secolo fa. E le donne? Esatto, le donne in un certo senso era una specie di rimorso che avevo nel poterne parlare poco, in un libro che chiaramente si prestava molto agli uomini, più maschilista che maschilista non si può nella guerra del 15-18, però francamente c'erano a dire due cose, uno che la donna in generale nella guerra, adesso uscendo anche dallo specifico dell'aviazione, nel 15-18 specialmente ha sofferto moltissimo, come sempre le donne soffrono anche loro, chiaramente il problema della guerra, madri, mogli, fidanzate, sorelle che hanno i uomini al fronte. Ma al di là di questo, c'erano anche delle donne che avevano già buttato il cuore oltre l'ostacolo, cioè avevano cercato di dedicarsi all'aviazione. Quindi c'era stata una donna che era l'ottava al mondo, che prese il prevetto in Italia, la Rosina Ferrario, e quindi era già una pirotessa nota al ribalto delle gronache, c'è anche un episodio curioso, dovevo raccontare che fu esaltata come pirotessa, come donna dal capitano Mario Pezzi, che era un eroe della guerra di Libia, ma che gli mandò un biglietto scrivendolo «la apprezzo come pilota, ma l'avrei preferita mamma», che suscitò un grosso problema già per il femminismo dell'epoca. E poi c'eravamo anche una abruzzese, non proprio nel periodo della guerra, perché era nata nel 1913, nata a Barrea, ma poi con la famiglia si era trasferita in America, però là in Pennsylvania, appena 19 anni, riuscì a battere un record di durata in volo, pensate, 12 ore, nel 1931, 12 ore in volo, poi atterrò perché costretta ad avvicinarsi a un temporale, senza paracadute, quindi c'è un'eroina a tutti i set, tanto è vero che il suo personaggio è riportato, esaltato, apprezzato, anche nello Smithsonian Museum in Washington, che è più importante. Leggo che ebbe riconoscimento, un'ereficienza anche da Ronald Reagan e Francesco Costiga. Perfetto, perché è vissuta molto, è morta nel 2010, e quindi ha avuto molti riconoscimenti, ed è stato importante collocarlo, perché anche lei fa parte della storia abruzzese. Perfetto, adesso facciamo una pausa e riprendiamo fra un po'. Non per entrare nel merito del motore, ma ogni motore ha una musica ed io la so, così per sempre nel vento la farò cantare, per questa mia povera terra da sud a nord. E quanto è solo un uomo, lo so solo di Dio, mentre volo sopra le ferite delle città. e come a un grande amore, gli dico addio, e come solo un uomo, lo so solo io. Oltre le nuvole, oltre le nuvole, o se possibile ancora un minuto più in là, con questa notte i miei piedi più nera e più buia, vederla da qua, ma un giorno il giorno tornerà. Da Radio Speranza riprendiamo la presentazione del volume Aviatori Abruzzese e Molisani della Prima Guerra Mondiale, con Antonio Di Gregorio, uno dei due autori, insieme ad Alessio Meuti. Meuti. Però adesso parliamo con Antonio. Ringraziamo, come al solito, il nostro regista Davide De Amicis, che trova sempre questa musica adeguata alla nostra riflessione. Oggi pilota di guerra di De Gregorio. Bellissimo. Perfetto. Adesso, Carlo Antonio, entriamo nel vivo di questi personaggi. Ma sono tanti questi avviatori dell'Abruzzo e del Molise e della Prima Guerra Mondiale? In assoluto no, non sono tanti, perché parliamo di... Dobbiamo volerli contare, io ne ho trovati 57. Eh, non sono pochi 57. Però, certo, non sono pochi, ma soprattutto nel contesto dell'epoca. Cioè, eravamo nel 1915, l'aeroplano aveva volato per la prima volta circa dieci anni prima. Quindi sono tanti. Sì, sono, sono considerate tanti. E questo è un fenomeno che non ha riguardato solo l'Abruzzo. Chiaramente ha riguardato molto di più le regioni del nord, dove c'è... È sempre stato così, c'erano già delle persone che avevano iniziato a dedicarsi a questa... Però sicuramente dal centro-sud l'Abruzzo è stato il capo stipide. E poi, soprattutto, eh, magari ci entreremo se c'è tempo, poi, più avanti, la qualità dei piloti che abbiamo avuto in Abruzzo. Non tanto sulla qualità come pilota in sé, ma la qualità dei personaggi per quello che hanno potuto dare in tutto il movimento, in tutta l'organizzazione dell'aviazione. Poi diciamo che sicuramente Gabriele D'Annunzio ha stimolato, no? Gabriele D'Annunzio è stato assolutamente un trascinatore della situazione. Io dico sempre che quando si parla della Prima Guerra Mondiale, si parla dei piloti della Prima Guerra Mondiale, due nomi escono, Francesco Baracca e Gabriele D'Annunzio. Quindi non ci sono dubbi. In particolar modo Baracca per le sue vittorie come asso di guerra assolutamente. Ma D'Annunzio per quello che ha fatto per le imprese, per quello che ha dato, e soprattutto per alcune iniziative, sono state sue l'idea dei bombardamenti a Pola, a Cattaro, dove hanno spiazzato l'impero austro-uncarico di fronte a questi eri italiani che riuscivano a fare delle imprese e sono gli aeroporti più fortificati. Oppure il volo su Vienna è un fatto epocale, quindi senza spargimento di sangue, senza niente, ma fu una grande propaganda negativa per l'impero centrale. Questo è chiaro. Allora, ci sono tantissimi personaggi, sto vedendo, medaglia d'oro al valore civile... No, militare, medaglia d'oro al valore militare, certamente, purtroppo... L'Aquila, parliamo da Aquila e provincia. Sì. Antonio Menegazzi, Armando Passamonti, Emilio Speranza... Speranza... Ecco, direi che è un dato che non potremmo esaminarli bene tutti, il più importante è proprio Speranza. Sì. Perché, anzi, Speranza, a essere onesti, era nato a Perugia, ma a meno di due anni di età, figlio di due aquilani, tornò all'Aquila con la madre perché morì il padre prematuramente. Il padre era un funzionario dello Stato, per questo lavorava a Perugia. Nel momento che è venuto a mancare, la mamma è rientrata all'Aquila e dopo alcuni anni, un paio di anni, questo bambino ancora piccolo si è sposata con Patrignani, un pittore che per noi, non so se quando è conosciuto in Abruzzo, ma meriterebbe di essere conosciuto un po' di più, forse, per chi non lo ha ancora incontrato, diciamo, sulla sua strada culturale, come allievo di Teofilo Patini, ma più che allievo collaboratore, al punto tale che la morte di Patini venne preso il posto nella scuola d'arte dell'Aquila. E Patrignani fu, più che un padrigno, un padre importantissimo per Speranza. Ha visto le qualità del ragazzo, gli ha fatto da genitore a tutti gli effetti, l'ha inviato nelle carriere tecniche, visto che il ragazzo era portato per i motori, per l'automobilismo, per queste cose qui, tant'è vero che una volta diplomato, lo ha aiutato anche ad andare a Milano, dove balzò subito agli occhi di Caproni, che lo prese come collaudatore. È stato il miglior collaudatore d'Italia, che purtroppo ha perso la vita nel 17, proprio spostandosi con un aereo per un collaudo, cadde con l'aereo in fiamme, quindi è uno dei meno conosciuti in Abruzzo, ma è senz'altro un personaggio importantissimo. Perfetto, porto Umberto Sansone, Giuseppe Di Ruscio, Francesco Bucci Grossi, tutti aquilani. Tutti aquilani. Di Avezzano, Nestrando Resi. Ecco, questo è un altro personaggio importante, per esempio, insieme all'amico Alessio, abbiamo deciso di dare anche una connotazione proprio dell'abruzzesità, anche nella vita quotidiana questi personaggi vivevano lontano, al fronte, però con l'abruzzo sempre vicino, con le vicende che ha uno sempre della sua famiglia. Resch, oltre ad essere un asso, perché ebbe più di cinque vittorie, forse sei vittorie addirittura, quindi a cinque vittorie si diventava assi, ma quello che mi colpisce e mi ricordo è che appena partito, volontario, quando ancora la guerra non era scoppiata, dopo qualche mese ci fu il terremoto della Marsi, che perse nel terremoto contemporaneamente la mamma e cinque sorelle. Quindi vicende che si intersegano tra la storia dell'abruzzo vera e propria e quella che poi è stata la storia della guerra e dei piloti. Bene, Tagliacozzo, Dino, Ciaprini, Monticchio di Bagno, Andrea Bafile. Bafile è considerato più come un marinaio, però è amicissimo di D'Annunzio, lo aiutò nel volo su Cattaro, ebbe un incidente a un occhio che non gli permisse di andare avanti, ma stava prendendo il predetto da osservatore, quindi è da considerare ugualmente. Celano, Achille Sergadi, Silvio Mellone, poi Sant'Emaria, Arturo De Luca, Petronan Surgizio, Vincenzo De Filippo, Cerchio, Piero Costanzi. Andiamo a Campobasso e Provincia. Lucifero Antonelli, Rodolfo Calogero, un ragazzo che è diventato famoso purtroppo perché è l'unico aereo che a Terrone nei primi anni a Campobasso, riuscì addirittura a salutare la madre appena un mese prima che poi con l'aereo cadesse e perdesse la vita in Alta Italia, vicino Verona. Luigi Olivi, Giovanni Romagnoli. Ecco, Romagnoli è un eroe, morto poi dopo la guerra, la guerra in Africa è considerata un medaglio d'oro, c'è una caserma intitolata da Romagnoli, lo stadio Romagnoli di Campobasso è indagnante, è un personaggio importante per il Molise. Silvestro Daudino, di Campobasso, Giulio Macchia, Andrea Mancini, Pescara e Provincia, ci fermiamo un po' di più. Luigi De Risis. De Risis è l'unico non pescarese, però non potevo non mettercelo, ne ho parlando neanche con me, quando la famiglia De Risis qui è molto nota, abbiamo ancora un parco De Risis, quindi chiaramente... Pasquale Liberi. Beh, Liberi, nipote acquisito di Annunzio, nipote della sorella soprattutto di Annunzio, che aveva sposato l'ingegner Liberi, anche lui deceduto subito dopo la fine della guerra per delle prove, per una gara in volo per ricordare Baracca. Poi abbiamo due nomi particolari, Ugo Veniero D'Annunzio e Gabriellino D'Annunzio. I due figli di D'Annunzio. Gabriellino è stato proprio un osservatore, anche medaglia di bronzo, ha partecipato specialmente nell'ultimo anno agli attacchi per le battaglie del Piave e di Vittorio Veneto. L'altro Veniero invece come ingegnere, preso il brevetto più tardi, dopo la guerra, però come ingegnere aeronautico e lavorava alla Caproni anche lui. Perfetto, e adesso ci fermiamo un attimo su Corradino Dascanio. Beh, assolutamente. Allora, che dobbiamo dire di Corradino Dascanio? Corradino Dascanio si può dire di tutto e di più, troppo vorrei dire, anzi lo inserirei in questo, appunto quando prima dicevo che l'Abruzzo è stato molto importante, che oggi per fare volare un aereo si uniscono 10, 20, 30, ma di più, forse un centinaio di professionalità e di imprese. All'epoca non era così, ma almeno 4 ce ne erano importanti ed era uno quella operativa e sul campo operativo abbiamo D'Annunzio come personaggio, quindi non stiamo neanche a discutere. Nel campo dell'ingegneristica per la progettazione, beh, un personaggio come Dascanio subito fu infatti... Quindi come vediamo, diciamo che l'Abruzzo ha dato anche un contributo in termini intellettuali. Intellettuali, allagrante. E a questo punto ci collegherai subito con Dascanio che poi Dascanio è diventato più famoso per l'elicottero e per la Vespa, ma durante la guerra del 15-18 è stato determinante perché con le sue intuizioni... Poi ci abbiamo dei pomiglio. E appunto, dicevo, perché Scandalù è un pomiglio che ha creato una fabbrica che alla fine della guerra è quella che in un paese dove operavano delle fabbriche importanti, la Fiat, la Macchi, l'Ansaldo, la pomiglia è quella che ha costruito più aeroplani. Ecco, allora con questo libro, con questo libro, Avviatori Abruzzese e Mauritana, Prima Guerra Mondiale, abbiamo riscoperto una cinquantina di piloti che hanno messo, molti hanno perso anche la vita durante la Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto c'è questa riscoperta importante, questa sottolineatura di questo grande patrimonio culturale e tecnico-culturale dell'Abruzzo per l'evoluzione dell'aviazione. Allora Antonio, per concludere? Per concludere, diciamo che da questo lavoro mi farebbe molto piacere che il libro contribuisse proprio a quello che tu stavi dicendo, cioè del riconoscimento del contributo allo sviluppo che ha avuto l'Abruzzo in campo aviatorio, altrimenti continuiamo a parlare di un Abruzzo che qualche volta anche in senso dispregiativo è soltanto il paese delle pecore, della transumanza che poi è uno dei nostri tesori storici, ma che è un luogo comune. Oggi abbiamo scoperto questi cinquanta aviatori abruzzesi, abbiamo riscoperto il contributo dato da tanti personaggi, da D'Annunzio, a Corriano d'Ascanio e Pomiglio, assolutamente, assolutamente. Allora, aviatori abruzzesi e molisani della Prima Guerra Mondiale, Antonio Di Gregorio e Alessio Meuti, edizioni Mondo Nuovo con le illustrazioni di Mimbo Sacchiavono. Paro saluto ad Antonio. Grazie e un saluto anche agli ascoltatori.